Il discorso mio è che ad Alessandro è stato troppo parco, deve ancora partire a fare quello che dovrà fare in questi tre anni che rimangono per la nuova competizione. Club du Monde Rione è sicuramente il campionato del mondo più importante del mondo attualmente di pasticceria. È un compito difficile quello che gli abbiamo dato in mano adesso perché fare il presidente è un compito veramente particolare, particolare perché l'ho vissuto sulla mia pelle, si tratta di gestire degli equilibri, si tratta di gestire qualche cosa che poi nel pomeriggio ne parleremo. Se prima vi hanno detto che qualcuno ha lavorato anche l'ultimo dell'anno e nelle festività comprese, questi ragazzi lo devono ringraziare sotto scritto. Ecco, perché hanno fatto tutte queste giornate qua. Però quando il gioco ne vale la cannella credo che ne vale la pena. Vorrei qua al mio fianco anche Livia Chiriotti perché senza Livia Chiriotti il Club du Monde non esisterebbe. Club du Monde è nato e adesso ve lo sono le prospettive che io credo che siano le più belle in assoluto e io credo che tornare da Lione e ricevere veramente un premio come Club du Monde più importante, più attivo del mondo è quello italiano, vuol dire che c'è qualche cosa dietro le pinte che ha lavorato in una certa maniera. Alessandro è una persona, per conto mio non solo perché è in accademia, è una persona meravigliosa, è una persona che saprà sicuramente gestire questo timone, è un timone molto importante. Lui è una persona estremamente modesta, troppo modesta delle volte perché a volte invece si tratta di avere un po' di ambizione e l'ambizione nei concorsi vedrete che può servire sempre, purché sia sana. Se l'ambizione non è sana, dopo diventa difficile. Livia, due parole perché citeremo perché lei è veramente il cuore di questo club, l'ha voluto lei, l'ha voluto anche con la mamma perché bisogna ogni tanto anche dare a Cesare quel che è di Cesare perché la mamma è stata veramente un'artefice, è sempre stata una grossa... come si dice il femminile? Perfussore, ecco vedete che anche i giornalisti poi lo sanno bene. Al femminile adesso è stato difficile, però l'ho sempre visto avanti, ecco così. Grazie a tutti e a dopo. Grazie a Gino Fabri, ma la presenza di Gino Fabri e di Alessandro D'Armasso dimostrano veramente la finalità del Club della Club di Mondo e Selezione Italia perché si tratta di darsi e dare tantissimo in mani con umiltà e con passione col proprio carattere perché giustamente sono caratteri diversi, ma spendendosi tanto ve lo assicuro. Il Club della Club di Mondo è nato dopo la vittoria del 97 italiana con Biasetto, Vedubschi e Mannori allenati da Ingegnio Vazzari. Nel 97 l'Italia vinse la medaglia d'oro a Lione e da lì nacque la necessità di creare un'entità qua in casta alimenti che permettesse gli allenamenti che sono ovviamente onerosi. In quegli anni poi non c'era nulla, non c'era ciò che c'è oggi e che vedete oggi e non c'era tutti questi campioni che si formano, che hanno una squadra attorno e tutto quanto. E nasce da un'intuizione, un'idea di Gabriel Paiasson. Gabriel Paiasson è questo grande pasticcere francese che ha inventato la Coupe du Monde di Lione. Il padre fondatore ancora oggi coinvolto al 100%, anche se ha avuto la grande intelligenza di demandare tantissimo e di essere solo un testimonio in giro per il mondo, ma un testimonio di un'etica creato incredibile. Di sicuro qualcuno di noi lo conosce e ha avuto la fortuna perché condividere del tempo con un personaggio di questo livello è veramente un lusso e io sono molto contenta che noi tutti siamo amici di Gabriel Paiasson. Lui ha voluto in giro per il mondo questi club perché facessero quadrato attorno alle squadre e permettessero di arrivare a Lione preparati e anche sostenuti economicamente perché è chiaro che chi si allena e chi rappresenta una nazione in questi eventi spende molto e quindi era necessario creare un gruppo di competenze diverse che potesse sostenere negli anni tutto quanto. Il club della Coupe du Monde Selezione Italia ha lavorato talmente bene dal 2000, prima come presidente il luce di Asetto per diversi anni veramente illuminato e determinato, ha portato tantissime squadre fino a Lione e poi con Cino Fabri e oggi col passaggio ad Alessandro Dalmasso. Questo club italiano è ritenuto da Lione e da tutti gli altri club mondiali l'esempio più limpido e più brillante a livello mondiale e questo ci gratifica ogni volta che andiamo a Lione perché poi nel 2015 grazie a questo Magico Prio abbiamo riottenuto un oro a cui tenevamo tantissimo, però già prima eravamo sempre sempre premiati come il miglior club, il più operativo e il più attivo, grazie appunto a una squadra che ha sede qua a Castanilelli. Non mi dilungo perché volete vedere lavorare questi tre signori, devo dire che da 2015 a oggi quello che ho mirato molto in loro tre è questa capacità di non fermarsi, di non sedersi sugli allori come si suol dire, di non sfruttare in maniera solo vieca questo titolo, ma di vederlo come un'opportunità e come anche un'occasione di condivisione. Da gennaio 2015 a oggi hanno portato il loro sapere e questa loro vittoria in mezzo ai colleghi in Italia e nel mondo e hanno permesso di creare questo circolo vituoso che oggi ci permette di dire che abbiamo tantissimi campioni, perché avete portato fortuna dal 2015 a oggi e abbiamo visto tutto il resto che mancava e l'avete fatto da trainatori, non so nemmeno se si dica così ma va benissimo. E quindi è bello un esempio, un esempio che abbiamo voluto tutti i desti del Pastry Camp perché è l'esempio che dobbiamo portarci tutti nel cuore, essere da train noi stessi in primo ma anche a tutti gli altri. Quindi adesso ci lasciamo lavorare, rilassare, e lascio il microfono a Alessandro Dalmasso, non vedeva l'ora. Noi lasciamo lavorare i tre ragazzi intanto loro sanno parlare molto meglio di noi.